Buongiorno sincronauti, il mio nome è Melissa, sono una bambina arcobaleno, agente galattico 18.11, in missione speciale su questo meraviglioso pianeta, il pianeta blu, velatropa 24.3. Trasmetto da Sirio V52, in diretta dal centro della galassia, sulla frequenza 13-20. La frequenza del tempo è arte, la frequenza dell'amore, dell'armonia, della bellezza, dell'eleganza, della pace, della cultura, la frequenza della libertà. E vengo oggi a portarvi il mio messaggio, una pillola 11-11, un messaggio di libertà. Il mio messaggio è il seguente, siete liberi sincronauti, siete liberi di essere chi siete veramente. E allora la domanda sorge spontanea, chi siamo veramente. Veniamo su questo pianeta e iniziamo la nostra vita strutturandoci. Strutturandoci nell'idea che gli altri hanno di noi e che poi noi ci facciamo di noi stessi. La libertà sta nell'essere essenzialmente noi stessi, ovvero incarnare la nostra vera essenza. Come facciamo a ricordarci chi siamo? Come facciamo ad incarnare la nostra vera essenza? È importante riportare sempre tutto alla nostra presenza, tutto al nostro cuore. Chi siamo, la nostra essenza, la nostra presenza, il nostro potere sta nel nostro cuore. È il cuore che ci unisce con la fonte, il posto da cui siamo venuti. Siamo i viaggiatori del tempo e dello spazio, siamo figli delle stelle, siamo venuti qui come una frequenza, come una nota musicale del grande sole centrale della galassia. Lui ha cantato per noi e continua a cantare per noi e canta con noi. Siamo noi che ad un certo punto abbiamo smesso di cantare per lui. Il ricordo di noi dunque sta nel ritrovare la nostra nota armonica, il nostro accordo perduto e tornare a cantare tutti insieme la canzone del sole centrale della galassia. Il mio proposito, che poi è il proposito di tutti e del proposito principale della vita, è ricordarmi chi sono. Nel mio ricordo di me aiuto anche gli altri a ricordarsi chi sono. Oggi sono qui allora per condividere la mia verità, che non è la verità assoluta, è solo la mia verità e in quanto mia verità diventa uno stimolo affinché voi tutti possiate trovare la vostra verità, la vostra verità interiore, quella che vi guida, quella che vi farà compiere con la vostra missione di vita. E la missione di vita non è solo una missione planetaria, ma è una missione galattica, cosmica, universale. Abbiamo tutti un grande ruolo, una grandissima responsabilità dentro questa nostra galassia, questo nostro cosmo, questo nostro universo e dentro poi tutti gli universi. Per ricordarmi chi me e io, chi sono, io ho iniziato un percorso. L'ho iniziato quando sono nata, anzi, l'ho iniziata anche prima di nascere, così come voi. Sono qua per scrivere il mio libro, per diventare la mia migliore opera d'arte e invito tutti voi a farlo. Non leggete il libro altrui, scrivete il vostro proprio libro. Sono arrivata qua su un unicorno alato e ho iniziato l'avventura come tutti noi all'interno del Matrix, della Babilonia, del sistema. Chiamatelo come volete. E non c'è giudizio, non c'è critica nell'identificare il Matrix, la Babilonia, il sistema. Lui è un maestro, un maestro grandissimo che ci spinge al miglioramento continuo, ci spinge all'autoconoscenza, ci spinge a dare il migliore di noi. In nome di che cosa? In nome di una unica verità, la verità superiore, che siamo tutti uno. Legge dell'Inlakesh, la legge dello specchio. Io sono un altro te. Sono arrivata qui tutta felice, come una bambina pura dal cuore puro, e ho iniziato la mia cavalcata. Non è più stata una cavalcata su un unicorno alato, è stata una cavalcata nel mondo tridimensionale. E questa cavalcata mi ha strutturata. Io stessa mi sono autostrutturata. La mia famiglia, i gruppi a cui ho partecipato, la scuola, il lavoro che ho portato avanti, ovvero le strutture, le società di cui sono stata parte, mi hanno strutturata e sono entrata nella dimenticanza di me. Tutti entriamo nella dimenticanza di noi e il proposito è proprio tornare a ricordarci chi siamo veramente. Che cosa succede quando iniziamo la nostra camminata all'interno della Babilonia? Ci identifichiamo, ci identifichiamo con l'idea che gli altri hanno di noi stessi e diventiamo quell'idea, diventiamo quell'identificazione, perdendo tutti i nostri connotati personali, che sono i connotati di quella bambina o quel bambino puro, che sono venuti su questo pianeta per divertirsi. Siamo qua per divertirci sincronauti. Non c'è un altro proposito nella vita. Divertirci ricordandoci chi siamo, rendendo questa vita su questo pianeta meraviglioso più leggera, più leggera per noi, più leggera per la nostra famiglia, per le nostre relazioni, per tutto il mondo. Uno potrebbe pensare, sei superficiale, Meli. Non lo sono affatto e non sono nemmeno egoista. Sto semplicemente dicendo che essere un bambino, un bambino arcobaleno, non vuol dire non prendere in considerazione quello che accade nel mondo. Anzi, vuol dire avere una grandissima responsabilità, che è quella di trasmutare, proprio con questa vibrazione arcobaleno, dell'allegria, della gioia, della felicità, dell'amore, che sono le vibrazioni più alte che possiamo suonare, che possiamo cantare, a trasmutare tutto quello che accade nel mondo. Siamo dotati di grandissimi poteri. Siamo il potere divino. Non siamo Dio, siamo una parte di Dio, ma tutti insieme lo siamo. Siamo questo grandissimo mare cosmico che sta navigando, che sta ondeggiando per tutto l'universo. Che cosa siamo venuti a fare dunque qua? Appunto compiere con una missione e non potremo mai compiere con questa missione se prima non ci ricordiamo chi siamo. Sono cresciuta in un contesto normale, come probabilmente molti di noi. Ho studiato, ho avuto grandi opportunità grazie alla mia famiglia, ho avuto anche i migliori degli studi, ho lavorato per delle grandi aziende, sono onorata di averlo fatto. Ma a un certo punto c'era una nota discordante dentro di me, una nota che diceva tutto qui non può essere tutto qui. Avevo perso quello che in inglese si dice il wonderment, la sorpresa, la bellezza della sorpresa, quello che proprio caratterizza i bambini che vanno gattonando, scoprendo che non puoi mettere le dita delle mani nella presa della corrente. Quindi abbiamo perso proprio questo, questa gioia, questa allegria di stupirci davanti alla creazione. Lo stupore viene guardando un fiore, contemplando un albero, parlando con un uccellino. Sembrano cose folli, ma in realtà tutti voi lo sapete, che la verità sta nella natura intorno a noi, che il cielo è già sulla terra, che viviamo già nel paradiso, che questa è la terra promessa, che siamo noi il giardino dell'Eden. E dunque le persone che hanno cominciato a ricordarsi chi sono, hanno il compito di aiutare gli altri, di prendergli la mano, di aprire il proprio cuore, di sparargli quello che io chiamo il raggio laser del cuore, il raggio laser dell'amore, della luce, affinché tutti possiamo nel più breve tempo possibile ricordarci chi siamo. I tempi sono intensi e questo fanno il gioco ancora più interessante. La mia raccomandazione, il mio consiglio è prendete la vita veramente come un gioco, come farebbe un bambino. State nel qui e ora, navigate la vostra vita, camminate sulle proprie, sulle vostre emozioni, surfate quella che io dico l'onda. Come ho fatto a ricordarmi chi sono? Innanzitutto sono passata per periodi molto travagliati della mia vita. Dieci anni fa, a un certo punto, ho ricevuto un messaggio molto chiaro da quello che io chiamo il grande spirito, ma lo potete chiamare come volete, Dio, coscienza divina, universo, un abku, che mi ha detto, Meli, così non va, hai perso la tua moltezza, ritrova la tua moltezza. Allora io quel giorno ho preso uno zaino e me ne andai. Avevo applicato, attuato la legge della fuga. Molti di noi fuggono davanti a qualcosa che gli fa male, ma non avevo alternativa in quel momento lì. Ero solo in grado di fuggire. Fuggivo dal mio intorno, ma in realtà stavo fuggendo a me stessa. Ho preso uno zaino e me ne sono andata. E lì è cominciata la mia vera avventura. Ho cominciato a rincontrarmi con il mio incorno alato, il tappeto di Aladino, il santo Graal. Ho cominciato veramente a vivere quella che è la gioia di questa vita. Non è stato facile, non vi sto dicendo che è stato facile, però quello che vi sto dicendo, quello che vi posso trasmettere da qui, da Sirio B52, è che potete attraverso anche le mie parole ricordarvi chi siete e farlo più brevemente di quanto l'ho fatto io e anche in modo più leggero. Che cosa mi ha aiutato tantissimo? L'incantamento del sogno, il dream spell. Questa, mi viene in inglese, questo strumento che è stato canalizzato dall'incredibile maestro Valunvotan José Arguelles, il maestro 1111, e che ci ha insegnato, che ci insegna, che mi insegna quotidianamente a surfare l'onda. Che cos'è l'onda? Tutti noi siamo un'onda. L'universo si esprime con delle frequenze, canta una canzone. Questa canzone è fatta di note musicali, di brani musicali, e queste note, questi brani viaggiano nello spazio. Sono i nostri unicorni alati, sono le nostre tavole da surf. Ognuno di noi canta una canzone e l'universo anche canta una canzone. Che cosa dobbiamo fare noi, ognuno di noi, tornare a cantare la nostra canzone? e quando canteremo all'unisono? Allora sì, saremo tutti svegli e saremo tutti finalmente sull'arca di Noè, già arrivati a destinazione. L'onda incantata è uno strumento incredibile, è uno strumento magico, è un potere magico incredibile, che è a disposizione di tutti noi. Si tratta semplicemente di un cambio di frequenza, di frequenza temporale. Il tempo, così come ci è stato raccontato, è un'illusione. Il tempo non sta nel passato e non sta nemmeno nel futuro. Il tempo è sempre nel qui e ora e nel qui e ora genera una spirale ascendente che ci aiuta proprio a ritornare a casa. Dunque se avete il desiderio di ricordarvi chi siete e di ritornare a casa, vi consiglio di seguire l'onda incantata. L'onda incantata sembra uno strumento semplice, è uno strumento semplice, ma nella sua semplicità crea un incantesimo impressionante e ci permette di uscire da un vecchio paradigma, che è il paradigma del tempo e denaro. Il Matrix, il sistema, la Babilonia, è stata creata proprio per incastrarci, o meglio preferisco dire per tentare di incastrarci, in un paradigma disarmonico, in un paradigma meccanico e artificiale. Quello del tempo e denaro. Siamo stati messi su una rotellina, un po' come un criceto, che continua a camminare, camminare, camminare su quella rotellina senza rendersi conto che è chiusa in una gabbia e quindi corre sulla rotellina per raggiungere qualcosa che non gli serve in questa vita, perché in realtà sta sempre nello stesso posto. Questa rotellina può essere paragonabile al karma. Non facciamo altro che correre, correre, correre senza renderci conto che ripetiamo, ripetiamo, gli stessi paradigmi, gli stessi modelli, le stesse strutture sociali che sono nostre da alcuni secoli. Allora il maestro Valun Votan 1111, insieme anche alla maestra Boulonique, insieme alla regina rossa, sono qui per guidarci in questa nuova era, questa era del sesto sole, che è l'era della liberazione, che è l'era della illuminazione e dell'ascensione, proprio per liberarci da un vecchio paradigma, un vecchio paradigma che non è più valido, che non ci serve più. I guerrieri arcobaleno non vivono più nel tempo e arte, vivono nel paradigma, nel modello sociale, culturale, politico ed economico del tempo e arte. Il paradigma del tempo e arte ci invita proprio a fare di ognuno di noi un'opera d'arte e l'opera d'arte è l'ancoramento nel cuore. Una volta che siete ancorati nel cuore vi verrà svelata quella che è la vostra missione planetaria, galattica, cosmica e allora inizierete veramente a divertirvi. La mia verità è che tutti abbiamo una vita su questo pianeta e questa vita è anche fatta di cose materiali, una famiglia, una casa, dei figli, un'auto, un lavoro, ma questi non sono la nostra missione. Noi non siamo venuti qua solo per queste chiamiamole futilità. Noi siamo venuti qua con un intento superiore che è quello di mantenere la nostra meravigliosa amata madre terra in una rotta, una rotta spaziale, una rotta di ascensione. Non siamo soltanto noi umani che stiamo ascendendo ma è la terra stessa che sta ascendendo. Come ascende? Con il nostro aiuto. Come ascende? Quando ognuno di noi canta effettivamente la propria canzone. L'onda incantata è una misura di tempo, si sviluppa su un orizzonte temporale di tredici che possono essere giorni, lune, anni, millenni e che cosa fa? Spirala, spirala, spirala verso l'alto. Quello che io vi suggerisco è prendere una tavola da surf e decidervi a surfarla quest'onda incantata. Così ho fatto io per ricordarmi chi sono e cominciare a vivere veramente la mia avventura. Quando me ne sono andata da qua, dall'Italia, dove attualmente sono rientrata proprio per compiere con la mia missione planetaria, ho ricevuto una meravigliosa inizializzazione da una stella ritmica. È stata un'inizializzazione che io dieci anni fa non ero in grado di comprendere. L'unica cosa che io sapevo è che cercavo assiduamente delle informazioni sui Maya. Questa era la mia assidua ricerca. Maya, 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 Maya. E apparve una stella ritmica che mi lesse la mia firma galattica, che mi aiutò ad iniziare questo mio percorso di ritorno alle stelle, di ritorno a me stessa. Da lì cominciai a studiare il dreams bell, l'incantamento del sogno. Studiare non vuol dire mettersi giorno e notte a leggere i libri. Per me studiare è vivere quello che sto facendo, stare in costante osservazione di quello che io penso, quali sono le mie emozioni, quello che il mio corpo sente, per poter capire che cosa io stessa sto generando. Sappiamo benissimo che siamo, proiettiamo fuori quello che noi siamo dentro. È stato come vi dicevo prima un percorso tortuoso, un percorso anche di sofferenza, ma sono qui a raccontarvelo con il sorriso sulle labbra perché vi posso dire che è una gioia per me, ora, essermi rincontrata con la mia bambina interna. Il rincontro con la bambina interna, col bambino interno, è il nostro proposito di vita. Il bambino viene qui con un cuore puro, non si è ancora dimenticato chi è e vuole ricordarsi chi è, vuole vivere l'avventura e vuole che tutti giochiamo insieme. Questo è il nostro proposito. All'inizio ho iniziato proprio a surfare l'onda incantata. Che cosa vuol dire? Ho iniziato a seguire giorno dopo giorno quello che era il kin giornaliero e a cercare di interiorizzare quell'energia che l'universo mi mandava per capire che cosa mi stava accadendo. Ma poco a poco ho cominciato a entrare in un'altra vibrazione, un'altra frequenza. Anziché leggere e subire l'onda incantata, io ho cominciato a sentirla l'onda incantata. Ho sentito il movimento di ogni giorno, del susseguirsi di ogni giorno, di ogni luna, del susseguirsi di ogni luna e poi di ogni anno. E la mia vita ha cominciato a prendere un senso. La vita prende un senso quando rimaniamo in coscienza di noi. E la coscienza di noi è nella presenza del proprio sé, del proprio io superiore, ricordarsi ciò che è stato per proiettarlo in ciò che sarà. Siamo dei maghi, abbiamo il potere di creare il nostro futuro e in realtà lo stiamo scrivendo. Ma se non sappiamo niente di chi siamo stati veramente, di chi siamo veramente, non saremo in grado di scrivere un futuro migliore per questo pianeta. Dunque vi dicevo, ho iniziato surfando l'onda incantata, poi ho cominciato a percepire l'onda incantata, sono diventata l'onda incantata e mi sono ricordata chi sono. Quando noi diventiamo l'onda incantata vuol dire che siamo veramente in frequenza con l'universo e dunque non c'è più separazione tra noi e quello che accade fuori e questo rende la vita magica. Surfare l'onda incantata vuol dire veramente usufruire di un potere magico, un potere che tutti noi abbiamo sempre avuto e che continuiamo ad avere. Dunque io qua sono a ricordarvi sfoderate le vostre bacchette magiche, riprendete i vostri unicorni alati e create la vostra realtà. C'è un modo semplice, prendere una tavola da surf e surfare l'onda incantata. Piano piano voi stessi percepirete il movimento dell'onda incantata e diventerete l'onda incantata. Perché si chiama onda incantata? Perché dà un'idea di movimento e in questo movimento fluido che è il movimento dell'universo voi create l'incantesimo, l'incantesimo della vostra vita. Convoco qui dunque tutti i maghi della terra affinché tutti insieme possiamo sfoderare le nostre bacchette magiche, salire sulla tavola da surf e finalmente cocreare insieme all'aiuto dell'universo del grande spirito il mondo che desideriamo oggi. Non è difficile surfare l'onda incantata. All'inizio uno può non comprendere ciò che sta leggendo, ma il mio consiglio è il seguente. Non cercate di capirlo con la mente. È molto difficile. Si tratta di numeri, si tratta di frequenze, si tratta anche di parole che non siamo esattamente abituati ad utilizzare. Semplicemente lasciatela entrare in voi, come una medicina, come una pillola dorata. Prendete questa pillola dorata che non vi fa male perché va a risvegliare le vostre memorie cellulari. Noi siamo una mappa spaziale, una mappa stellare con la quale possiamo tornare a casa. Solo che siamo rimasti avvolti in un velo di ignoranza e pensiamo che la nostra casa sia il pianeta. Il pianeta Terra non è una casa. Il pianeta Terra è una nave spaziale che si sta muovendo proprio nel tempo e nello spazio. Gira attorno al Sole e tutti insieme con gli altri pianeti giriamo attorno ad altri soli, fino a girare attorno al Sole centrale della galassia, che è un grande magnete e che ci vuole molto bene e che ci vuole vicino a sé. Ci vuole essere tutti in ricordo di noi. L'onda incantata è questo. L'onda incantata è la possibilità di ricongiungervi con il vostro vero io, con il vostro vero sé. Immaginatevi un mondo dove nessuno è obbligato ad essere ciò che gli altri si aspettano che sia, ma semplicemente è. Questo è un mondo armonico. Questo è il mondo che possiamo creare insieme. Entrare nella nostra vera essenza vuol dire entrare in ricordo di sé. Vuol dire essere armoniosi con se stessi, non sentire più spigolature. Non mi piace chiamare le ombre, anche se le ombre esistono. Preferisco chiamarle spigolature. Perché? Perché noi siamo acqua, siamo fatti di acqua e l'acqua non ha spigolature. L'acqua è fluida e nella sua fluidità è dolce e forte allo stesso tempo. L'acqua è magnetica. L'acqua ci permette di attirare a noi ciò che desideriamo. Una volta che siamo guidati dal potere del cuore, tutto ciò che desideriamo per far di noi stessi la migliore opera d'arte e per contribuire a fare del mondo la migliore opera d'arte verrà a noi come per magia. Non c'è sforzo nella vita. Se state percependo sforzo, se state percependo un sacrificio nel raggiungimento dei vostri obiettivi, anche personali, vuol dire che non siete ancora frequenziati, non siete ancora allineati con la presenza del grande spirito. E questo non è una critica, è una realtà oggettiva a cui tutti siamo passati, io stessa. La vita per me era uno sforzo, era molto sacrificio. Mi stancavo molto, desistevo, mi abbattevo, poi ritornavo in me, riprendevo forza, riprendevo frequenza, ma era tutto molto faticoso. Da quando ho deciso di lasciar fare al grande spirito, di lasciar fare a Dio, all'universo, la vita è diventata molto più divertente. Che cosa mi ha aiutato a fare? Il dreamsper, l'incantamento del sogno, a lasciare andare tutte le mie strutture limitanti, tutti i modelli che mi sono stati passati, se vogliamo, anche dalla mia famiglia, che mi ama moltissimo e che nel suo essere conformista e a sua volta strutturata ha cercato di darmi il meglio, il meglio che ha potuto. In questo meglio si sono create delle strutture, delle aspettative e io stessa mi ero identificata con queste strutture e con queste aspettative. Quando ho cominciato e ho deciso volontariamente, ho intenzionato che io volevo semplicemente essere me stessa, volevo essere semplicemente libera da tutto ciò che mi limitava, mi condizionava, dalle aspettative e dalle intenzioni altrui, allora ho cominciato a ritornare in me, a ritrovare la mia moltezza, a ritornare sull'onda incantata, a surfare la vita in modo divertente e tutto si è fatto fluido, tutto si è fatto magico, tutto si è fatto anche molto divertente. Ritornare in noi e ricordarci chi siamo non significa non prendere in considerazione ciò che sta accadendo sul mondo in questo momento. Il mondo, il nostro pianeta, in realtà l'essere umano è in un momento delicato, è in un momento molto serio ed è per questo che c'è bisogno di molti bambini arcobaleno. I bambini arcobaleno vivono nel ricordo di sé, non perdono la speranza, non perdono la fede, non l'hanno mai persa, sono dei visionari, sono dei leader, possono guidare anche le persone che stanno più in difficoltà. Il proposito è prenderci tutti per mano, non c'è un migliore, non c'è un peggiore, c'è qualcuno che ha camminato prima e che quindi si trova in uno spazio temporale più avanzato rispetto agli altri ed è suo dovere, perché è parte della sua missione planetaria, tendere la mano ai propri fratelli e aiutarli a spirare tutti verso l'alto. Andiamo tutti insieme, tutti andiamo a casa, dipende soltanto dalla nostra volontà. Il nostro libero arbitrio è quello chiamato in causa in questo momento come umani. Che cosa scegliamo? Scegliamo la pillola rossa o scegliamo la pillola blu? E non c'è critica, non c'è giudizio in questa scelta, c'è solo e semplicemente una scelta. Ma il cammino è un cammino di luce. Se volete ricordarvi chi siete, se volete ritrovare la vostra moltezza, se volete far parte dell'esercito, dei bambini arcobaleno che lavorano per Dio, per il grande spirito, vi invito a surfare l'onda. Prendete la vostra tavola da surf, collegatevi, frequenziatevi, sintonizzatevi con il king quotidiano, con l'onda incantata e tutto si farà molto magico. Vi libererete di molti patroni limitanti. I modelli, le strutture che ci sono stati passati hanno incassato la nostra testa, le nostre emozioni, ma soprattutto il nostro cuore in una gabbia. Siamo stati ingabbiati, ci siamo lasciati ingabbiare e questo è il momento della libertà. Questo è il momento di ritornare ad essere chi siamo, di ritornare in unione, a vivere in armonia, in pace, in bellezza, in allegria, in amore su questo incredibile pianeta. La nostra terra è una tartaruga, una tartaruga magica, è la nostra navicella spaziale. Decidiamo insieme dove vogliamo andare. La rotta è chiara, il destino è chiara, ma non lo può fare una sola persona. Più siamo e più il disegno si definisce e più arriveremo a casa e ci godremo il cammino. Io sono Melissa, bambina arcobaleno, agente galattico 18.11. Vengo a ricordarvi chi siete. Non dimenticate mai chi siete. È l'unica missione, l'unico vero senso che ha la vita, ricordarci chi siamo. Così ho parlato, perché così è scritto. In La Cache.